Non essendo molto portato per gli studi, a 16 anni ho fatto domanda alla Ferragna, dopo un colloquio sono stato assunto, il colloquio l'ho fatto all'epoca con il Dottor Valbusa che era direttore della ricerca all'epoca, gli sono piaciuto e mi ha preso nel suo laboratorio. Non ero portato per gli studi, però ero curioso, ero impaziente di vedere, di capire, di cercare in queste cose. Il mio primo giorno è stato traumatico, in quanto sono stato portato in un ambiente, in un laboratorio che non conoscevo l'esistenza di un qualcosa del genere, colmo di cose strane, bottiglie, macchinari, odori, rumori che non conoscevo. Però mi sono subito appassionato, mi piaceva, stimolava la mia curiosità e piano piano ho cominciato il lavoro. Premetto che il mio primo lavoro era fattorino, sono entrato come fattorino, perciò andavo in magazzino a prendere prodotti, andavo nei vari reparti a portare cose, a prendere. Piano piano, poi vista la mia curiosità, visto il mio interesse nel tempo libero, andavo nel laboratorio a vedere come facevano le cose, come si muovevano e il Dottor Valbusa mi ha affidato ulteriori lavori, perciò ho cominciato ad inserirmi allo sviluppo dei provini, a fare cose un pochino più importanti e di lì ho continuato, sono andato avanti, sino a 19 anni quando la patria mi ha chiamato e sono andato a militare. Quando sono tornato non eravamo più nei vecchi laboratori, ma nel frattempo era stato costruito il famoso LER con tutti i laboratori riuniti e sono arrivato in questo nuovo reparto che era un altro mondo rispetto al vecchio laboratorio con i soffitti bassi, con le luci fiocche, qui invece era tutto vetro, era tutto nuovo, nuove tecnologie, nel frattempo la ricerca avanzava e sono stato inserito a sua volta in un laboratorio all'epoca che erano i servizi dove noi dovevamo, assistevamo quello che erano i ricercatori, perché il ricercatore faceva una formula, al primo piano il precision cotter stendeva i prodotti, poi salivano al terzo piano dove venivano elaborati, fatti improvvini, esposti per vedere, per portare avanti la ricerca. Non avevo nessuna informazione così vaghe, non sapevo bene come era, sapevo che era uno stabilimento chimico che producevano pellicola, però non avevo informazioni precise, la Ferragna per vista da me era una città, perché c'era tutto, c'era l'infermeria, c'era il ristorante, palazzi da tutte le parti, officine, perciò praticamente era una città e facevi parte di questa città dove c'era tutto e di più. Di conseguenza questo avvalso alla mia curiosità, diciamo tecnica, non ne ero portato agli studi, però ero più portato per le cose tecniche, per le cose anche meccaniche e poi mi affascinava molto, all'epoca gli albori, l'elettronica, che all'epoca era ancora elettromeccanica, diciamo, perché proprio l'elettronica di oggi non esisteva ancora. Questa mi affascinava e mi ha portato appunto a inserirmi in quell'ambiente, a cercare di portare avanti. Ho avuto anche la fortuna che i miei superiori hanno visto questo mio interesse e questa mia cosa e di conseguenza piano piano mi hanno dato spazio e ho cominciato anche lì una carriera, aumentare di categorie, fare lavori più importanti, sino ad arrivare a un laboratorio nato in quell'epoca lì che si chiamava New Technology, che era un piccolo laboratorio, perché eravamo in tre, c'era un laureato, c'ero io tecnico di laboratorio e c'era un'operaia e dovevamo studiare nuove tecnologie un po' per tutto, per i reparti, per gli altri laboratori, nuovi sistemi di misura. Nel frattempo erano arrivati i primi IBM, l'XT, gli albori dei computer con quegli schermi a fosfori verdi, con una persistenza infinita e tutto questo per me era, a volte quando suonava la sirena dal fine lavoro mi infastidiva quasi, perché mi piaceva questa cosa. Quando io sono rientrato da militare, sono rientrato all'ER e eravamo i servizi al terzo piano, è andato in pensione il responsabile dei servizi e io essendo uno dei più esperti in quel settore, ho preso il posto e sono passato impiegato e da lì ho cominciato, poi dopo un certo periodo i servizi di sé non è che mi piacesse più di tanto, perché poi alla fine conoscevo tutto, più o meno, e allora sono entrato con un altro laureato in questo laboratorio New Technology e da lì ho cominciato sia la carriera economica e anche proprio la carriera lavorativa, ho appreso nuove conoscenze, abbiamo creato, abbiamo inventato delle cose nel laboratorio per migliorare la produzione, nel frattempo la Kodak aveva inventato il disco, che è stato un tremendo flop proprio per tutti e noi dovevamo, praticamente ci avevamo dato la ricerca del disco e avevamo dato 8 mesi di tempo per portare in produzione il disco, delle cose spaventose, perché non si conosceva bene, c'erano mille problemi, avevamo dei problemi insormontabili, perché questo disco era dentro un supporto di plastica. Se stava un po' al caldo, all'umido si incolava e non girava più, di conseguenza abbiamo dovuto trovare la soluzione e grazie a un'intuizione, vedendo un servizio in televisione che faceva vedere la dialisi, la purificazione del sangue tramite l'ultrafiltrazione, la microfiltrazione ha svegliato quasi contemporaneamente al laboratorio, dicendo se applicassimo questo sistema all'emulsione, cioè togliere i sali dall'emulsione con l'ultrafiltrazione, perché i sali li toglievano lavando l'emulsione in acqua demineralizzata, ghiacciata, per ore ed era costosissimo e non è che funzionasse perfettamente. E noi piano piano abbiamo inserito questo sistema dell'ultrafiltrazione, risolvendo grossissimi problemi e mandando il disco in produzione. L'Air a sua volta era una città nella città, perché aveva tutte le caratteristiche per essere appunto una piccola città e con l'arrivo poi degli americani è diciamo di diffondersi radicalmente il sistema americano, mentre prima Ferragna erano tutti i laboratori, c'era la segretezza, ognuno per sé, non c'era colloquio tra, mentre gli americani hanno portato l'equip, bisogna lavorare in equip, bisogna lavorare tutti insieme, tutti su un progetto. L'Air ha avuto molte difficoltà a entrare in questa mentalità, perché c'erano tutti i compartimenti stagni, ognuno aveva le proprie ricerche, le proprie cose e li teneva per sé. Mentre, ripeto, con l'evento degli americani abbiamo dovuto cominciare a lavorare in equip. L'inizio è stato duro, però piano piano poi le cose sono migliorate e alla fine si sono create proprio delle grandi equip dove purtroppo, come in tutto il mondo, c'erano chiaramente delle tensioni tra vari, più che tutto erano tensioni personali, però nonostante si procedeva in modo abbastanza produttivo, si raggiungevano gli obiettivi. L'Air era prima di tutto molto rumoroso, perché al piano terra c'era un carrier per l'aria condizionata che sembrava un'officina, ma tremenda proprio. E poi mano a mano si saliva e si arrivava sino al quarto piano dove c'era l'elita, al quarto piano c'era il fiorfiore dei ricercatori, che facevano proprio le ricerche fini, proprio di finezza. A parte che la ricerca, poi la 3M ha fatto quando ha diviso produzione, amministrazione e ricerca, abbiamo cambiato proprio addirittura i numeri di matricola, siamo diventati proprio l'Air. Ed era diverso da tutti l'Air, l'Air tutti avevano il camice bianco per esempio, mentre nei reparti c'erano ancora le tute, i camici neri, i camici celesti, invece all'Air tutti i camici bianchi, infatti a quelli dell'Air li chiamavano i camici bianchi, perciò direi che era un mondo a sé, era una cosa sua proprio. I rapporti umani erano abbastanza difficili, perché c'era molta competizione, specialmente non solo tra i vari gruppi della ricerca, ma anche all'interno dello stesso gruppo, c'era una, chiamiamola a volte non tanto sana competizione, perché la sana competizione è una cosa, a volte non era proprio sana, sana la competizione, perché si tendeva anche a volte a danneggiare qualcuno per poter emergere o che, però tutto sommato non era peggio di tante, era un po' la Ferragna, la 3M tutto l'insieme. Ci sono stati periodi, ci sono stati periodi in cui i filmisti, eravamo chiamati i filmisti, no, non era molto, diciamo negli anni 60, non era a mio avviso molto ambizioso essere a Ferragna, perché gli stipendi non erano molto alti rispetto, tipo alle ferrovie, rispetto a Cochitalia o Funivie, gli stipendi erano un po' più bassi, perciò questo, il prestigio lo dava esclusivamente lo stipendio. Poi invece con l'evento 3M, con l'evento delle pubblicità anche che si vedeva in televisione, tutte queste cose, è diventato un po' più di prestigio, diciamo, l'essere dipendente 3M, per poi alla fine di nuovo ricadere nell'ublio quando la 3M purtroppo è defunta. Ho compreso che c'era qualcosa che non funzionava quando hanno cominciato a tagliare i fondi alla ricerca, perché la ricerca funzionava così, tu proponevi un progetto alla dirigenza, la dirigenza valutava se il progetto aveva qualche interesse, veniva finanziato e andava avanti. Quando cominciava a presentare progetti e immancabilmente venivano, ma neanche bocciati, venivano, ma sì, poi vediamo, poi ne parliamo, poi, 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 si è cominciato a capire qualcosa, poi, perché fermo restando che la produzione non calava, anzi, la produzione continuava in modo egregio proprio, però ho cominciato appunto il taglio alla ricerca, andavi in magazzino, scorte, c'era qualunque cosa, si cominciava a vedere il magazzino scorte che bisognava ordinare, perché non c'erano più le scorte, non c'era più, cominciava a mancare questo, e di lì ho cominciato a capire, ho detto, ma qui, poi, da 3M è diventata iMation, e lì allora abbiamo capito tutti che era la fine, quando hanno cominciato a smembrare, hanno cominciato a vendere i vari pezzi, abbiamo capito. E quando penso ai luoghi del mio lavoro, a Ferragna si vivevano le stagioni, si viveva, perché appunto c'era tutto, ed era piacevole, era bello, perché in primavera c'erano dei fiori, era tutto fiorito, era curata, c'erano imprese che lavoravano esclusivamente per queste cose. Poi, ritornando all'inizio del decadimento, si è capito anche quando si è cominciato a non più curare quello che era il lato estetico, perciò le siepi non venivano più potate, l'erba non veniva più tagliata, e da lì si è vissuto questa. Il rapporto con, diciamo, la ricerca, ho cominciato a viverlo, diciamo, all'erre, perché prima, dai 16 ai 19 anni, i grandi ricercatori erano al di fuori, vivevano in altri ambienti, c'erano i dottori tedeschi, c'erano gli ingegneri, e non c'era un contatto diretto, e neanche nei laboratori non c'era neanche questa conoscenza, o perlomeno era a livello dirigenziale, e noi vivevamo la ricerca spicciola, proprio quella, i due prodotti, uno bianco e uno verde, li mescolavi diventavano blu, ecco, proprio quella ricerca, diciamo, ruspante, chiamiamola così, noi l'abbiamo vissuta in questo modo, in modo leggermente diverso, quando facendo una certa carriera, passando gli anni all'ero, che avevi un progetto con cui dovevi, diciamo, se non quotidianamente, sovente dovevi relazionare con la dirigenza, dovevi far vedere l'andamento, dovevi far vedere che si procedeva, no? Perché stavano le calcane dicendo, allora, andiamo avanti a queste cose. A cui sono rimasto particolarmente legato è il dottor Valbusa, che è stato il mio, che mi ha scelto, perché eravamo in sei persone e c'erano diverse, diciamo, chi voleva il personale e il dottor Valbusa ha scelto me, diciamo, e mi ha portato, anche nel breve periodo, mi ha portato avanti. Quando siamo tornati poi all'ER, lui è stato ancora per un breve periodo capo, il mio capo, poi gli eventi, i cambiamenti, ok, è stato estromesso, è stato emarginato in un ufficio con delle mansioni piuttosto anche poco importanti, però io sono sempre rimasto, finché lui è stato in treme, finché non è andato in pensione, legato anche come amicizia proprio, perché è stato il mio creatore nell'ambito Ferragna. La Ferragna, oltre che avermi dato l'opportunità di crescere non solo come età, ma di crescere in carriera, che è stato apprezzato il mio interessamento, le mie cose, mi ha dato anche l'amore, la Ferragna, in quanto la conoscevo già da quando sono entrato a 16 anni, però non avevo velleità, avevo la curiosità, ma non le velleità matrimoniali, invece rientrato dal militare, questa persona che c'era un legame così di amicizia, un'affettuosa amicizia, è cresciuta e si è trasformata in amore, che è ancora oggi, che tutt'oggi porto avanti grazie alla Ferragna, se vogliamo. A Natale l'ingegner Schiatti faceva questo regalo a tutti i dipendenti e c'era un veramente mitico pacco natalizio con moltissime cose, proprio c'erano i giocattoli per i bambini, mi ricordo il parmigiano reggiano, il salame, l'olio d'oliva, i plate, le coperte, c'era un po' di tutto, ed era, anche se non c'era una grande necessità di queste cose, non eravamo, non c'era molto bisogno, però faceva piacere, era un riconoscimento, non so come chiamare, era un qualcosa che era piacere, dava piacere. No, decisamente no, non penso che si possa tornare a un'industria di questo tipo, ma non solo in Val Bormila, ma penso in tutta Italia, che la grande industria non sta morendo, però si sta rimpicciolendo, si sta sfaldando, perciò la Ferragna era, ripeto, era una città, era un qualcosa, non penso che sia più possibile ritornare a quell'industria.